Ci sono dei forti cambi, delle forti differenze in questo bilancio che sono legate sia nel merito, ovvero nella scelta dei provvedimenti da utilizzare, dando forte rilievo alle famiglie, al lavoro, al mondo del lavoro, al mondo dell'impresa, alle fragilità e quindi questo è un vero e proprio merito, ma soprattutto nel metodo. E' stato completamente ribaltato il vecchio sistema di composizione del bilancio che era fortemente basato sulla tabella C, che come sapete era una tabella dove prevedeva dei contributi puntuali dati delle cosiddette vere e proprie marchette, date agli amici degli amici e noi abbiamo come promesso di campagna elettorale voluto cambiare questo tipo di sistema, dando e finanziando le leggi regionali che meritavano di essere finanziate e dando dei contributi solamente a quelle associazioni, solamente a quelle persone a progetti meritevoli. Io capisco che purtroppo negli anni sono stati abituati tante persone ad agire in questo modo, noi siamo diversi, siamo orgogliosi di voler fare politica in maniera diversa, dando delle prospettive, dando una visione futura molto importante, perché anche nel documento di economia e finanza, che dà un po' la linea politica e programmatica per i prossimi anni, ci sono delle linee chiare di quello che si vuole fare, quindi una nuova agenzia per il turismo e l'innovazione, la rivisitazione della Svim e tante altre cose importantissime che questa regione vuole applicare, quindi siamo molto contenti.